Roberto Di Giovan Paolo, presidente di Smemo Lab, con lui parliamo di Dentro Tutti, è un progetto di network di pensiero positivo. Che cos'è questo progetto Dentro Tutti? Allora, prima di tutto è un'impresa sociale, un'impresa sociale formata da MC Lab, che da molto tempo lavora nel campo dei temi della corporate responsibility, insomma della responsabilità sociale delle aziende, e da il gruppo Smemoranda. Il gruppo Smemoranda vuol dire Smemoranda, l'agenda che dal 77 in tanti conosciamo, e anche ovviamente il gruppo Zelic, che è uno dei pilastri della comicità, e non solo, diciamo, dello spettacolo in Italia. Perché ci siamo messi insieme? Ci siamo messi insieme perché immaginiamo che sia importante occuparci dell'educazione civica, su cui c'è stata una riforma a luglio del 2019, e il prossimo anno sperimentazione nelle scuole, l'anno dopo diventa nuove materie di educazione civica. Però per noi sembra importante anche l'educazione civile, questa pandemia ha solamente accelerato le nostre attività. Noi partiamo dal digitale, ci partivamo da prima della pandemia, ovviamente l'accelerazione ci porta a fare iniziative molto più di prima. Per tutti quanti le iniziative, diciamo, i nostri tabloid, a disposizione anche di insegnanti e studenti, ma non solo, anche di qualunque cittadino che voglia essere più responsabile, conosce meglio le cose, si trovano in DentroTutti.org, e se qualcuno vuol vedere come funzionerà in futuro la nostra attività, basta che va sul museo di Smemoranda, a partire da Smemoranda.it, che abbiamo realizzato e che è l'unico museo virtuale tra i musei d'azienda. Ecco, domani ci sarà un confronto molto importante sulla pagina Facebook, con importanti personaggi che parleranno appunto di economia civile. Sì, esatto. In realtà noi abbiamo fatto già una premiere, nel senso che noi siamo stati, abbiamo fatto la presentazione del nostro progetto il 18 febbraio a Milano, in epoca pre-pandemia, e la settimana prima, il 7 febbraio, eravamo stati alla giornata di apertura, di inaugurazione di Padova 2020, anno europeo del volontariato, col Presidente della Repubblica, per noi ha parlato Gerardo Colombo, che cura il tema della Costituzione. Questo tema l'avevamo già portato a Padova, avevamo fatto una sperimentazione all'incirca una ventina di giorni fa. È andata bene, abbiamo avuto molto riscontro, diciamo, di pubblico, anche di visualizzazioni nei giorni seguenti, e quindi domani iniziamo il nostro road show, nel senso che domani presentiamo il quaderno sull'economia civile con Leonardo Becchetti, con sicuramente contributi di Luca Raffaele e di Sergio Bellucci, e quello che potrò anche io dare, e con il responsabile della Foxiv, quindi quel mondo del volontariato e quel mondo del terzo settore, che è il nostro punto di riferimento. Ecco, quindi domani a partire dalle 16.30 e per un'ora sulla pagina Facebook di Dentro Tutti si potrà vedere e assistere a questo confronto. Il punto è arrivare presto a costituire una comunità che per noi è potenziale quasi di 10 milioni, perché grazie ad altri partner media come voi e ad altri partner media che ci stanno supportando, tenete conto che Zelig ha circa 2 milioni di contatti ogni anno, che il CSV è fatto da 6 milioni di volontari, che le aziende che aderiscono al formato del suo settore sono più di un milione, quindi considerando la platea dei milioni di studenti e docenti, quello che noi vogliamo dire è si può fare informazione responsabile, si può fare anche business responsabile civilmente, e noi presentiamo una platea di 10 milioni circa di persone le quali a partire dal loro smartphone vogliono conoscere cose nuove che siano importanti, per esempio come la Costituzione, affidandosi magari a Gerardo Colombo per la spiegazione, al discorso del Presidente della Repubblica, ma riguardando anche Sandro Bertini e però vedendo anche qualche comico come Bisi o come la Cortellesi o come i nuovi rapper per i più giovani che parlano anche di quello che dice la Costituzione. Quindi domani sulla pagina Facebook di Dentro Tutti, è facile da trovare? DentroTutti.org e ci troverete anche su Facebook, ovviamente rilanceremo la diretta domani, iniziamo con l'economia civile. Grazie a tutti.